Ciao leggine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata delle letture della cascia. Vediamo che cosa in servo per noi l'universo nella settimana che va dal 22 al 28 di luglio. Mentre io mischio ti ricordo, uno, di iscriverti al canale YouTube se non sei ancora iscritto, due, di regalarci un like se questo video ti piacerà, tre, di lasciare un commento, farci sapere la tua opinione su questo video, su questa lettura. Detto questo, andiamo subito a vedere come sarà la settimana che ci attende. La prima carta, come ormai sai, ci parla dei primi giorni della settimana, quindi lunedì, martedì e metà di mercoledì circa. La legge di causa e effetto. Torna questa legge, questa legge importante e veloce. Andiamo a vedere la parte centrale della settimana, quindi mercoledì, giovedì e forse parte di venerdì. il dono e infine il weekend ce lo prendiamo qua. Allora, ed è saltata fuori anche questa, quindi oggi abbiamo quattro carte effetti speciali, lo metto qui. Ci vogliono dare una conferma perché sono settimane che ci lavoriamo, ok? Allora, la legge di causa e effetto. La legge di causa e effetto è una legge che ci dice che ogni azione ha una reazione, che molto spesso gli effetti che vediamo non li capiamo, proprio perché è successo questo, perché non ci ricordiamo le cause sposate. Che vuol dire questo? Vuol dire che magari da bambino hai introiettato delle convinzioni familiari, per esempio, ne parlo nel mio libro Le 14 Legge Universali, proprio per le leggi di causa e effetto. Magari tifi una squadra di calcio e magari a te il calcio non ti interessa, o se ti fermassi a riflettere ti sentiresti più affine a un'altra squadra. Hai a volte una tendenza politica che magari va da un lato piuttosto che l'altro perché a casa tua è sempre stato così. E lo stesso può valere con la credenza religiosa. Magari te ami le carte ma a casa tua ne hanno sempre avuto paura o vengono considerati come strumenti così di poco conto. Quindi questa settimana sei chiamato ad andare a vedere qualcosa che sta dentro di te e ormai è vecchio stantio, sta un po' marcendo, lo devi togliere. Come fare? Diciamo che pesco dal mazzo. No, lo puoi fare attraverso gli effetti. Cioè nel momento in cui magari ti ritrovi con te che dici Oddio amo queste carte, voglio imparare a leggerle, faccio il corso di lettore certificato, mi metto a fare le letture, c'è tutto un progetto. E il primo che arriva dice ma che cavolo fai? Ma queste sono stupidate. Cioè non la vedete più come uffa non vengo mai supportata, ma vedete perché succede questo? Perché mi sta succedendo questo? Forse alla base ci sta il nonno, la nonna, la mamma, il papà, quelli del paese che te lo dicevano da piccolo. Ok? E quindi la persona di oggi è fatto solo da portavoce. Poi magari quello è andato per la sua strada, non c'ha manco più pensato a te che volevi fare questa cosa. La legge di causa e effetto lavora anche così. Quindi andare a stanare qualcosa di vecchio stantio che deve essere tolto. Perché? Perché nel momento in cui riesci davvero a toglierlo, il tuo dono si può manifestare. Sempre facendo l'esempio dei tarocchi. Solo se tu dirai, va bene, se non ti interessa non ti leggerò mai le carte. Lo dice ad altre persone e alla fine man mano che curerai la tua legge di causa e effetto arriverà la persona e ti dice, ma davvero? Ma è bellissimo? Ma è interessantissimo? Voglio farlo? Oppure raccontamene di più. Oppure raccontami come ti è piaciuta, come ti è partita a te questa passione. Quindi insomma potrai iniziare a parlare del tuo dono. Ma solo dopo aver ripulito qualcosa. Non ci sperate neanche che, come dire, non ci sia, che questa legge salti in qualche modo. Ve lo dico per esperienza personale, da studiosa di leggi universali e anche di leggi umane, però le leggi universali sono ancora più perfette. Non pensate che potete glissare. Nei primi giorni state veramente con gli occhi aperti. Ma tipo detective, divertitevi. Andate a scovare qual è quella rotturina, quella sfumatura fatta male, quella vecchia convinzione limitante. Andate a vedere che causa del cavolo avete sposato che vi produce effetti del cavolo. Toglieteli affinché il vostro dono possa finalmente espriversi. E se lo farete e quindi vi dedicherete al vostro dono, qualcosa di bello extra va a succedere nel weekend. Quindi magari avvii la tua cosa, non te ne frega niente di quello che pensano gli altri, vai dritta per la tua strada e magari quell'amico, quella persona speciale, quella situazione speciale, quei soldini bloccati, si sbloccano. E quando vi dite, ma davvero tutto questo può essere così possibile? Sì. Le carte ci hanno dato un'ennesima conferma. In questo periodo le energie sono molto intense. Abbiamo avuto un eclissi, abbiamo molte congiunzioni particolari astrologiche, il nostro cielo è arricco, è estate, abbiamo modo di vederlo di più, di uscire di più. Siate leggeri, divertitevi. La vita è complicata, la vita è seria, però tutti i grandi maestri ascesi hanno sempre detto di approcciarci come un gioco, come una sfida da vincere, come un modo per crescere. Tutto quello che succede, come ormai sappiamo, succede. Sta a noi capire come viverlo. Il 90% di quello che succede è come noi lo viviamo. La stessa cosa può essere vista come serendipidità o magari come scocciatura. Storie romantiche, buchi la gomma e arriva l'amore della tua vita a darti una mano a cambiarla. Se in quel momento inizia di dicerci, probabilmente tira dritto. Se invece vibri una frequenza più amorevole, magari ci fa caso, ma non che tirava dritto perché dice, oddio, ma tirava dritto perché se non c'è la giusta frequenza, magari quella persona è distratta, magari in quel momento gli suona il cellulare, magari succede qualcos'altro. invece quando tutto è allineato il miracolo può succedere di recente una persona mi ha raccontato una sua storia molto carina stavamo lavorando sulla frequenza vibrazionale abbiamo fatto un consulto di Tarot Coaching che è il mio modo di fare i tarocchi quindi in una modalità evolutiva e non prevediamo il futuro perché il futuro lo costruiamo noi con il nostro libero arbitrio i tarocchi ci danno solo delle indicazioni affinché possiamo riuscire a costruire il nostro futuro migliore e questa persona aveva un po' un problema sul lasciarsi andare aveva avuto vari dolori quindi non si sentiva così fiduciosa nella vita aveva paura, aveva un po' di mania del controllo i tarocchi gli diciamo guarda che controllare tutto non ti porta ad avere più sicurezza devi lasciare andare le avevano consigliato se ti viene di fare una strada differente praticamente le viene da fare una strada differente perché la strada sotto il suo lavoro la chiudono non riuscite a trovare il parcheggio, ho parcheggiato lontanissima e comunque la sfida era proprio le ho fatto una lettura anche con queste carte quindi c'era la legge della sfida e praticamente mi diceva che ha accettato la sfida si è un po' ricordata le parole che le avevano detto poi io ho una modalità di lettura per cui i miei messaggi li puoi riascoltare quindi si è riascoltata il messaggio, ha capito che era una sfida e ha detto va bene non me la prendo a male mi lascio, provo a lasciarmi andare ha fatto un'altra strada e ha incontrato una persona molto interessante anche lui costretto a fare quest'altra strada e quindi si erano messi a chiacchierare e ora mi ha detto che probabilmente si vedranno per un caffè quindi innanzitutto ti auguro tante buone cose questo per dirvi la serendibilità quindi nel momento in cui siamo su una frequenza positiva possiamo attrarre altre cose impreviste positive è un po' come quando si è innamorati che tutto va bene e noi siamo concentrati sul nostro nuovo amore e tante cose belle accadono quindi approcciatevi con una frequenza più gioiosa possibile per aiutare la vostra quotidianità capisco che a volte non è così facile però ve lo dicevo perché comunque l'estate aiuta magari uno la sera si fa una passeggiata si prende un gelato anche le piccole cose ci aiutano a far sì che la vita sia più bella magari ci sono le ferie quindi si può passare qualche giorno in famiglia qualche giorno di relax stesi sotto un ombrellone a leggere un buon libro insomma, quello che volete fare cercate però di prendervi cura di voi della vostra quotidianità e di far salire il vostro livello di qualità della vita il più possibile e questo aiuta moltissimo le leggi universali le potenze attrattive le frequenze vibrazionali eccetera ok, spero di avervi dato consigli utili vi auguro una settimana meravigliosa tanta 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 tantissima luce ciao